Allora, nuove dipendenze. Le nuove dipendenze sono disparate, sono social network, web, gioco d'azzardo e in particolare io conosco soltanto quella dei social network, in particolare Facebook, diciamo che il principale danno che propica questo nuovo social network, sebbene si presenti in modo molto simpatico, molto gradevole, è una costruzione interna, cioè una vita, ma ci costruiamo una finta vita dentro questo social network e possiamo apparire in un modo che poi non siamo veramente, perché è tutta una farsa e non c'è verità dietro queste cose, quindi cerchiamo di dargli poco spago, perché intanto sono cose che non portano da nessuna parte e rovinano solo, cioè sprecano solo i nostri temi.